Il primo lo chiamano il Supremo, boss spietato e sanguinario di fronte al quale tutti gli inranghettisti fanno un passo indietro. Il secondo è ritenuto un mamma santissima, persona al vertice della cupola massonico-mafiosa che opprime Reggio Calabria. Due uomini diversi per cultura ed estrazione sociale, eppure seduti allo stesso tavolo, quello della massoneria deviata, che decide carriere e vita di mezza città. Pasquale Condello e Paolo Romeo così vicini come forse mai emerso sino ad ora. Perché chi pensa che a quegli incontri nei salotti ovattatici fossero solo invisibili, sta commettendo un grave errore. Nel cerchio magico del potere l'andrangheta c'era con i suoi pezzi da 90, anche se latitanti. A rivelarlo è il pentito Paolo Iannò, braccio destro di Pasquale Condello, in alcuni verbali depositati dei pubblici ministeri al processo Gota. Iannò è stato sentito di recente con riferimento all'inchiesta che vede imputato l'ex ministro dell'interno Claudio Scaiola per aver aiutato la latitanza di Amedeo Matacena. Il collaboratore racconta di aver accompagnato lui stesso Condello ad alcune riunioni. Me lo diceva Pasquale e afferma che la sua forza era l'amicizia con loro. Gli argomenti di discussione erano pochi ma di rilievo, reciproci scambi di favori fra elezioni e processi da aggiustare. Poi il pentito fa riferimento ad un vertice in particolare. Attraverso Ionetti infatti si tenne un incontro a Gallico Marina nelle ville di Paolo Romeo. Fu proprio Iannò ad accompagnare Condello in quel periodo latitante. L'obiettivo dare una mano all'avvocato impegnato nelle elezioni alla Camera, cosa che avvenne tanto che Romeo fu eletto. Poi però non rispettò i patti, non diede una mano a livello processuale e i rapporti con Condello si raffreddarono parecchio. Consolato Minniti per l'Arc News 24.